Archetipi alfabetici, segni, simboli e significati svelati dalle lettere. Il nuovo libro di Costanza Bondi. Ne parliamo con l'autrice. Di cosa si tratta questo libro, Costanza? Si tratta di una mia ricerca indipendente basata sugli aspetti ancestrali che derivano dai significati simbolici delle lettere dell'alfabeto. Questa ricerca in verità è iniziata cinque anni fa con la pubblicazione di Alfabestoria. Alfabestoria è un libretto rispetto a questo degli archetipi che si è occupato dell'evoluzione grafica delle lettere dell'alfabeto e che si concretizza questa ricerca oggi con la pubblicazione invece di archetipi alfabetici che riguarda la parte archetipica. 26 lettere dell'alfabeto, ciascuna con il proprio significato e con il proprio simbolo. Ci può svelare qualche simbolo di queste lettere? Vi posso svelare subito che la lettera A rappresenta il cibo e quindi l'archetipo dell'alimentazione, però è un'alimentazione anche metaforica, quindi non solo il cibo in sé per sé, ma anche alimentare la propria cultura, i propri sentimenti e quindi la socialità tutta. Però vorrei precisare una cosa, che queste 26 lettere sono tutte necessarie, ognuna nella propria specificità ai fini di questa storia che siamo andati a raccontare. Anche le lettere che per noi italiani sembrerebbero superfule, come per esempio la lettera Q che in effetti viene definita un grafema sovrabbondante. E invece corrisponde, per esempio, all'archetipo del legame e il legame più importante nella storia dell'uomo inizia già dal placente, dal cordone umbilicale. Infatti la lettera Q è costruita graficamente da un tondo con quel filino che viene giù e quindi questo già la dice tutta, ma ogni lettera ha effettivamente una sua estrema importanza. Quindi praticamente andiamo a raccontare la storia di queste 26 lettere che vanno a formare quello che io ho chiamato il meraviglioso unicum, che a sua volta costituisce il sistema di comunicazione scritta più utilizzato al mondo, che è appunto l'alfabeto. Un libro che si trova non solo in libreria, ma anche in edicola, legato alla rivista Fenix. Sì, precisamente siamo in edicola nel mese di aprile, allegato al numero 90, la paura, come ha detto il mio editore, Adriano Forgione, che ringrazio e saluto. E dal 9 maggio invece siamo disponibili in libreria. Il libro verrà presentato in anteprima a maggio. Ci dici le date precise? Senza dubbio, il 14 maggio, il giorno tra l'altro del mio 48esimo compleanno, perché quest'anno mi voglio festeggiare così, faremo la presentazione istituzionale con il comune di Perugia che mi patrocina e che ringrazio, alla sala Apollo di Palazzo della Penna alle 17.30. Poi avremo una seconda presentazione da Marco Mandarini, arredamenti a Ferrera dei Ponte San Giovanni, venerdì 27, sempre alle 17.30. E ringrazio anche Marco per la fiducia che ci ha accordato. Costanza, puoi svelarci una curiosità in anteprima su questo libro? Senz'altro devo mettere gli occhiali, però, perché vi voglio leggere la frase di apertura di questo libro, perché praticamente dà l'indicazione di tutto quello che voi andrete a leggere. Quello che vi do non è né una dottrina né un insegnamento. E da quale pulpito potrei indottrinarvi? La mia via non è la vostra via. Dunque non posso insegnarvi nulla. La via è in voi, ma non negli dèi, né in dottrine né in leggi. In noi è la via, la verità e la vita. Carl Gustav Jung e il Libro Rosso. Stella Carnevali, che ha realizzato la prefazione del libro di Costanza Bondi. Qual è il senso che ha tratto da questo libro? Possiamo considerare Costanza Bondi come un'archeologa di segni e grafemi, di immagini, metafore, modi di pensare, che diventano, nella scorso dei millenni, ma anche di più, diventano parole e diventano lingua. Con impronte che sono comuni a tanti popoli, anche se a noi ci sembrerà una sorpresa nel leggerlo. A volte, di popoli molto antichi, sono arrivate a noi solo tracce, solo dei piccoli segni, perché magari non ci è stata consegnata la storia così come la conosciamo. Cioè, nonostante, lei ha trovato tutte le cose che ci accomunano con le 26 lettere usate, diciamo, nelle lingue occidentali. Un dettaglio, una curiosità che l'ha colpita in questo libro? Sì, ci sono alcuni esempi che danno un'idea di come questo libro, che è anche complesso. Per esempio, quando indica la ruota, o indica il coltello, o indica il martello, il bicchiere, nel senso che sono oggetti usati mille, 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 mille anni fa e che non hanno niente da... non devono essere perfezionati. Saranno... sono strutture, saranno così per sempre, a dire che il pensiero dell'uomo ha una struttura che esprime poi, appunto, con i grafemi, la lingua, eccetera, di cui lei parla, che non è che oggi sia migliore di quella di milioni di anni fa o di migliaia di anni fa, secondo le deliratazioni. Semplicemente, l'uomo è fatto così. Tant'è vero che i bisogni primari non sono mai cambiati, ma nemmeno i sentimenti, l'odio, l'amore, la gelosia, le vendette, anche l'eroismo, la generosità. Lei segue Costanza sin dai suoi sordi letterari di qualche anno fa. Qual è il suo giudizio sull'autrice? Sì, da quando ha iniziato, e devo dire che dal 2009, è partita a rovescio Costanza. Parte noi la chiamiamo Lady Costanza, la Capitana. Cioè, parte nel mettere insieme tutti gli appassionati, prima donne, ma poi anche uomini e donne, di poesia, prosa, letteratura. Insomma, li mette insieme e parte con il web. E quindi, come dire, lascia pedere tutte quelle che sono le trafile editoriali nell'editoria comune, nell'editoria cartacea. Poi, in un secondo tempo, attira diversi editori, al punto che, diciamo, opere virtuali diventano anche cartacee. e quindi fonda, crea, registra il marchio delle Women at Work che annoverano già 28 titoli, insomma, che non è proprio poco. L'importante è mai pensare che sia un'operazione editoriale. Questo è un vero e proprio cenacolo perché coloro che pubblicano con le Women at Work sono appassionati, condividono. È un cenacolo. Grazie a tutti.